I dati economici sono drammatici. In Italia c'è stato un crollo dell'assunzione fra il gennaio e il maggio del 2020, meno 43%. Lo dicono le rilevazioni Inps che testimoniano una volta ancora gli effetti del coronavirus sull'economia a breve e lungo termine. Per quanto riguarda i passi di lavoro, a maggio ne sono andati in fumo 742.000, per la maggior parte contratti a termine. Anche Confesercenti lancia l'allarme. Con l'autunno perderemo circa 90.000 imprese. Si prevedono 2 milioni di posti di lavoro a rischio. Ma il governo non ne parla né affronta la questione. Si perde in mille discussioni sulla scuola, parla di riforma elettorale, si concentra sulle termine congiunti dentro il bus scolastico. Intanto il paese non riparte perché questo governo è totalmente incapace di pensare alla ripartenza. Quel disastro vivente di Gualtieri ha avuto il coraggio di dire che quest'anno sarà un anno benissimo di rilancio. Ma dove vive questa gente? Non ha alcun contatto con la realtà e prende in giro coloro che soffrono. Questa è la vera emergenza. Un'emergenza che non viene considerata né affrontata. Invece di concentrarsi sulla ripartenza, si perdono in bonus e alimentano un'assurda paura del contagio, che deprime ancora di più l'economia italiana. Intanto i suicidi di imprenditori aumentano nel desinteresse totale del nostro governo. E c'è qualcuno che ancora non ha ricevuto la cassa integrazione, su cui, tra l'altro, i numeri sono ancora negativi. Nel mese di luglio, a tre mesi dalla prima riapertura post-lockdown, il 4 maggio, le ore di cassa integrazione sono aumentate ancora, 449 milioni in tutto. Questo, almeno, è quello che ha fatto sapere l'Inps. Il 10% in più rispetto a quelle autorizzate a giugno. In questo contesto il governo aspetta i soldi dell'Europa. Soldi che non arriveranno e che, se arriveranno, non si vedranno certo a breve termine. Sveglia. L'Italia non può aspettare.